Grazie 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 Voi vedete la fine dell'incontro e facciamo ancora un grande applauso a Iaposca Lucella e a Mimar Pereira D'Avosta. Voi vedete la fine dell'incontro e a Mimar Pereira D'Avosta. Voi vedete la fine dell'incontro e a Mimar Pereira D'Avosta. Vi ringraziamo ancora 90 gli organizzatori che hanno premiato e che premeranno tutti gli atleti che saranno impegnati sul ring. Voi vedete la fine dell'incontro e a Mimar Pereira D'Avosta. A Mimar Pereira D'Avosta.